Salve a tutti amici di Youtube e benvenuti in questo nuovo video. E' iniziata ufficialmente la nuova stagione del Milan ed è iniziata con una vittoria. Abbiamo appena vinto 2-0 in casa dello Shamrock Rovers, gol di Ibrahimović e Cialanoglu e abbiamo passato il primo turno dei preliminari di Europa League. Tutto secondo Copione, si sapeva che era una partita abbastanza agevole, si sapeva che lo Shamrock Rovers era nettamente inferiore dal punto di vista tecnico eppure siamo riusciti a soffrire in determinati momenti della partita. Incredibile ma vero perché nel primo tempo addirittura loro sono riusciti a impegnare Donnarumma per tre volte a causa comunque di un atteggiamento un po' allegro della difesa. Insomma, non che abbiano creato pericoli immensi, però insomma una difesa quella del Milan un po' da rivedere, un po' da riassestare. Perfettamente normale comunque perché stiamo parlando della prima partita stagionale, della prima partita ufficiale e quindi insomma serviva soltanto la vittoria, l'abbiamo trovata bene così. Però anche in una partita comunque dal punto di vista tecnico poco probante possiamo trovare qualche spunto di riflessione. Secondo me la più bella notizia della serata di oggi è l'intesa tra Ibrahimović e Cialanoglu. Secondo me Ibrahimović e Cialanoglu sono la coppia che letteralmente ci tirerà avanti per tutta la stagione. Si vede che si trovano a memoria, si vede che si capiscono, tecnicamente non l'avrei mai detto fino all'anno scorso ma parlano la stessa lingua. Ragazzi pare assurdo però a Ibrahimović evidentemente Cialanoglu piace e Cialanoglu con Ibrahimović è diventato un altro perché finalmente tenta la giocata decisiva con più convinzione, finalmente tira in porta con più convinzione. Quindi Cialanoglu fortunatamente anche oggi si è riconfermato ai livelli dell'anno scorso e la sua intesa con Ibrahimović secondo me sarà una delle colonne portanti della stagione del Milan. Abbiamo rivisto anche un ottimo, un ottimo Teo Hernandez visto che nelle ultime amichevoli estive qualcuno aveva già iniziato a mugugnare, aveva già iniziato a dire Teo Hernandez, Teo Hernandez, semplicemente perché non aveva fatto i partitoni contro il Novara e il Vicenza. Oggi Teo Hernandez alla prima gara ufficiale è tornato a fare il Teo Hernandez presentissimo in fase offensiva, ha sfiorato il gol un paio di volte, ha creato diverse palle-goal letteralmente da solo, quindi molto bene anche Teo. Sinceramente tra tutti quello che oggi mi è sembrato un po' più indietro dal punto di vista fisico mi è sembrato Benazer. Benazer, devo essere sincero, l'ho visto un po' più in difficoltà rispetto agli altri. Però, ragazzi, è la prima partita, quindi sinceramente non c'è molto da dire. Però l'ultimo discorso che si riallaccia al mercato è quello sui subentrati, perché negli ultimi cinque minuti hanno fatto il loro esordio con la maglia del Milan in partite ufficiali Sandro Tonali e Brahim Diaz. Tonali si è visto poco, ha toccato qualche pallone, però insomma non possiamo dire nulla. Brahim Diaz, invece, anche con i pochi palloni toccati, è riuscito a creare belle giocate, ad essere molto divertente perché è comunque entrato molto in fiducia e soprattutto ha messo Castiglieco davanti al portiere dopo aver fatto una bellissima giocata. E Brahim Diaz, in questi pochi spezzoni che ha giocato in amichevole, ha dimostrato secondo me in maniera abbastanza chiara una cosa. Lui è un trequartista, è vero che può fare tutti i ruoli del reparto offensivo perché può essere adattato a destra, può essere adattato a sinistra, però giocando dietro Ibra, secondo me un giocatore come Brahim Diaz può dare libero sfogo a quelle che sono le sue migliori qualità, ovvero abilità nello stretto e nel creare la giocata. Quindi, se consideriamo Brahim Diaz il primo ricambio di Chalhanoglu, servirà quindi un esterno? Perché ragazzi, io oggi, ok, ripeto, era la prima partita stagionale contro una squadra irlandese che in condizione era più avanti di noi, tutto quello che vogliamo, però Castiglieco e Salame & Cracker, con tutto il dovuto rispetto, non mi danno tutta sta sicurezza. Questo è quello che dico. Ora, è vero che la precedenza deve averla il difensore centrale, bisogna anche riprendere Bakayoko, è giusto che questi qui abbiano la precedenza, però secondo me, secondo me, un esterno offensivo servirebbe. Un esterno offensivo sarebbe una cosa molto bella da avere in questi ultimi giorni di mercato. Ok, lo so che alla fine, gira e rigira, andiamo sempre a parlare di Federico Chiesa, non sto chiedendo per forza Federico Chiesa, però ragazzi, Castiglieco è quello che è, si impegna meglio di Suso, sicuramente, perché comunque almeno ti tiene la fascia, almeno ti garantisce più giocate, è un giocatore che ci mette foga, che sicuramente ha carattere, che è diventato importante nello spogliatoio del Milan, però è un giocatore limitato. Salamino, ragazzi, Salamino, io gli voglio anche bene, si impegna tanto, corre come un mulo, però ragazzi, ha dei piedi che sono indescrivibili. Cioè, Salam and Cracker ha dei piedi, non voglio dire imbarazzanti, però ragazzi, è un giocatore di fatica, è un esterno di corsa, di corsa, di corsa e basta. Quindi, ok, Rebic, Leao lo considero il vice Ibra, per quanto mi riguarda, quindi un giocatore nel reparto offensivo, sull'esterno, secondo me, va preso. Adesso abbiamo il Bologna, ci aspettano gli altri preliminari di Europa League, ci aspetta ancora questo mercato, perché ancora abbiamo due settimane di mercato a belle piene, anche di più, anche tre, perché finirà il 5 ottobre, e quindi, ragazzi, vediamo, vediamo se riusciremo a fare questi tre fantomatici acquisti, perché tanto, ragazzi, allora, il terzino destro, secondo me, è acqua passata, non arriverà più, perché non sono riusciti a vendere Calabria. Il centrale deve arrivare, Bakayoko, perché alla fine è Bakayoko, deve arrivare, e a questo punto speriamo che si possa fare qualcosa anche sull'esterno. Ripeto, se dovessimo fare, ipotesi molto remota, ma molto remota, perché è veramente impossibile, però, Milenkovic, Bakayoko e Chiesa, insomma, sarebbe una bella pescata, secondo me. Ragazzi, io vi saluto, è stata una bella serata, finalmente è tornato il Milan, finalmente è tornato il calcio, io vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i miei profili social, da Instagram a Twitter al gruppo Facebook, trovate il link PayPal, qualora voleste sostenere il canale, io vi saluto, ci risentiamo qui sul canale, quindi attivate la campanellina per ulteriori aggiornamenti, e ci vediamo ad un prossimo video, fatto anche un verso strano, fatto tipo, prima di chiudere, strano, brutto. Grazie.